Negli Stati Uniti è conosciuto come Greek Freak perché il suo nome è quasi impronunciabile per un americano. Gianni Santetokounmpo ha dato prova di avere un talento straordinario. Ha alle spalle un passato da venditore ambulante in Grecia ed ora è tra i favoriti per vincere l'MVP NBA. Ti dà carica il fatto che si parli già di MVP per te? Devo continuare a migliorare. Ora, nonostante questa sconfitta, siamo la seconda squadra in classifica nell'MVP, ma possiamo far meglio. Adesso torniamo a casa, ci rimettiamo al lavoro e penso che possiamo migliorare molto. Abbiamo perso molte partite di pochi punti e spesso non abbiamo giocato bene nel finale del match. Se riusciamo a lavorare su questo punto e sulla capacità di mantenere il vantaggio e se tutti fanno il proprio dovere, come è accaduto finora, faremo davvero belle cose. Puoi fare un paragone tra una tua giornata tipo dieci anni fa ed oggi? Come hai fatto a cambiare la tua vita? Dieci anni fa, ora ho ventitré anni, ne avevo tredici. Probabilmente sarei andato a scuola e poi sarei tornato a casa e avrei giocato a basket con i miei fratelli. 33 punti, doppia-doppia per te, buono sforzo di squadra, ma non è stato abbastanza stasera nel tempio del basket. Dobbiamo essere più efficienti nel difendere il vantaggio. Eravamo avanti di 16-18 punti, c'è mancata la grinta. Dobbiamo imparare da questo, tornare a casa ed allenarci per divenire migliori. Cos'è una schiacciata per te? Cosa provi quando la metti a segno? Sono due punti come gli altri. Quando Ezzonia ha fatto una schiacciata e poi ti ha calpestato, ti ha dato fastidio? Oh certo, la prossima volta gli do un pugno nei testicoli. Grazie. Grazie. Grazie.